La bevuta il faciano, è una bevuta futuristica, da domani andrete nei migliori locali a chiedervi il faciano, è una bevuta, diciamo, che adesso andrò a vedere, mi illustri, questo ragazzo apprendista sta imparando da me, viene a scuola, io fai una scuola, non spara, esport, questa è roba di discount di Eurospin, esport, l'hanno esportata, l'hanno portata qua con un muore, stai riportata alla piena, dalla piena, per capire, questo sa di che sa, della maiala? Andiamo a vedere, il Pessoa, Ferdinando Pessoa, si va a mettere, si va a mettere il chicchino di Pessoa, qui hanno rammettato le canne, ma adesso stavano come gode, qui va le canne, qui ci sta, questo è il figliolo di Bombarne, perché Bombarne aveva la zia, stava a Tizana, la sua zia stava a Tizana, e il figliolo, Lui si chiama, infatti, come si chiama? Bobbino Bobbino La messa, se va il chicchino di caffè, possiamo scendere, perché ve la dagli il colpo, che è la mosca, la famosa mosca, cioè allora io uso la mosca, cioè chi gli usa per dire la vespa, il tappano, la vespa, la mosca della merda, la verde, i mosconi che ti conosci, vanno sulla merda, gli dà sapore, deve essere viva, deve essere viva, perché deve essere la mosca. Viva, segna eh garzone. Perché se è troppo più la favolatina, questo è il migliaccio, il noventino, il sacco di maiale, mi fa mi piace, quando si fa il noventino, il maiale. Quanto maestro? Bravo, brava, 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 un misurino. Brava, 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 brava. Ora si fa a pigliare il limone, il limone quando fate il rum e il cocaino, va bene, è una cosa molto paura perché si va a strusciare nel bicchiere. Un rum e il cocaino. Ragazzi che clausi, che clausi, con eleganza. Siamo lasciando l'infiammazione agli occhi, nell'occhio è importante, perché se no non c'è professionale. Questa è una vodka pipì a pistoiese, questa è la vetone, in Russia per dire c'è la vodka, la vetone è l'antica, andiamo a bere questa cosa, mi raccomando questo sale e scendi va fatto, perché non si rimesta con i fiosi, non si rimesta con questo, l'importante, che è il vino rossa. Un applauso a Yuri Bellini, Toscana Maremma Maiana, via! Attenzione, 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 arancia essiccata, perché quella fresca stava troppo si è piaciuta della vecchia, canavola essiccata e si va a mettere di qua, questo è un tocco di classe. Maestro, lei, mai prendere il ghiaccio con le mani, ma prenderlo con questo lì, perché è una cosa più, diciamo, igienica. E poi si va a mettere di qua, e si va a mettere c'è bisogno di un volontario, siamo in diretta, che sei una beuta, ecco, allora uccino! Allora io Massimo assaggiamo, la mani che l'ho fatta io, non andate a vedere il video domani, però è buona, ci sto. Aspetta! Aspetta, ti assumi? Marco! Attenzione, dopo ti si dà l'ingrediente, eh? Allora, scommetto a dirà, minchia come è buona. Sì, oppure... Ma posso anche dare un giudizio? Certo! No, lei deve dare un giudizio. Sincero, ora sincero. Allora, minchia come è buona. Lui è il tuo zio, figli è. Ma che c'è anche a te? Questo... No, è buona, davvero. È buona, è buona, di che sa. Ma che c'è adesso? La soluta di Sì, uno, con questo, vino, caffè, arancia, limone, vodka, Tutti che c'era. No, però, però... Ma non posso mangiare io? È buona, è buona. È buona. Allora, non posso mangiare io?